Giovanni Folador, presidente delle Proloco del Veneto, da anni al fronte per questa bellissima iniziativa un lavoraccio? Beh è un gran lavoro però noi ci crediamo in maniera molto forte, oggi soprattutto per i giovani, le nuove generazioni è importante che credano e che riscoprano la loro identità, la loro cultura è fondamentale per noi, è nel core business delle Proloco tutto questo e quindi noi ci siamo molto impegnati, sollecitiamo le Proloco a collaborare con le scuole e questo lo fanno proprio per creare queste ricerche, riscoprire queste tradizioni ma quello che a noi entusiasma il più è la grande risposta che abbiamo sia da parte delle Proloco ma anche da parte delle scuole allora in questo periodo magari anche di globalizzazione c'è proprio questa riscoperta delle giovani e generazioni della propria identità e questo è una cosa bellissima perché senza una storia un popolo non ha nessun valore ma è una storia che poi deve guardare in avanti, guardare verso l'Europa e verso il mondo